Le chiese restano un luogo sicuro, il teatro e il cinema no. Ed allora perché non organizzare uno spettacolo teatrale, un concerto o la proiezione di un film in una chiesa? E' questa la provocazione che arriva alle nuove misure previste dal nuovo DPCM anti-covid che dispone la chiusura di cinema e teatri ma lascia aperte le chiese. Di fatto la chiesa sin dal 500 è stato sempre luogo di cultura, luogo di musica, di sonate, di cappelle strumentali ecclesiastiche e vocali, luogo che ancora oggi di più ripropone la sua centralità. A richiamare questa possibilità anche oggi sono gli operatori della cultura, i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo pronti a scendere in piazza venerdì 30 ottobre per manifestare la sofferenza di un settore che sia con il primo che con il secondo ha dovuto osservare il lockdown, un settore fortemente danneggiato che seppur ha adottato misure serie e rigorose per contrastare la diffusione del coronavirus ha dovuto calare il sipario. Ed intanto un appello al governo affinché si possano riprendere le attività culturali è stato sottoscritto ieri dalle città d'arte di tutta Italia di cui fa parte anche la città di Salerno. L'ha annunciato ai nostri microfoni l'assessore alla cultura del comune di Salerno Tonia Wilburger. La cultura è stata la prima a chiudere ed è la prima di nuovo a chiudere totalmente quindi il mondo della cultura come sapete benissimo non è soltanto fatta da attori, da registi ma da tante maestranze, da tante realtà che con il loro fattorato partecipano all'economia di questo paese non solo ma è il cardine attrattore per le attività turistiche perché nel mondo noi siamo conosciuti per la nostra cultura, per i nostri musei e per le nostre attività teatrali, concertistiche eccetera. Le messe sono aperte al pubblico bene allora perché non pensare Requiem così come Mozart una volta le ha composte come le ha composte anche Giuseppe Verdi quindi Requiem nelle messe però chiaramente sotto la responsabilità della Chiesa e è in atto infatti un momento di dialogo con la Curia che è veramente molto molto aperta ed è disponibile alla cultura. Potrebbe diventare un'opportunità magari questo momento del lockdown ed aprire e spalancare le porte dei luoghi sacri per farli vivere in maniera diversa? Ma già durante le luci di artiste l'anno scorso noi abbiamo svolto una serie di attività, dei concerti nella Chiesa di San Benedetto, nelle varie chiese quindi sono già luoghi di cultura. In questo momento l'attenzione è puntata sull'aspetto economico, il prossimo 30 ottobre in tanti, in tutta Italia, il mondo della cultura scenderà in piazza perché servono risposte certe e sussidi per chi forzatamente ha dovuto fermarsi? Sono pienamente d'accordo, le manifestazioni vanno fatte perché è un momento di protesta ma manifestazioni pacifiche. Dobbiamo stare attenti che non ci siano altre frange che trasformano questo momento pacifico di confronto e di dialogo in momenti di rabbia, questa rabbia che è dovuta a questa incertezza. Quello che noi riusciamo a fare è fare degli appelli così come ieri abbiamo sottoscritto un appello come rappresentante del CIDAC, Salerno fa parte del consiglio direttivo delle città d'arte e di cultura di tutta Italia, quindi assessore alla cultura di Marcelli, di Modena, abbiamo sottoscritto questo appello al governo che eviti la sospensione delle attività culturali perché fanno parte del nostro indotto economico e si benvengano le misure emergenziali del nostro governatore, sempre molto attento e molto sensibili alle attività culturali ma a noi dal governo occorrono dei fondi strutturali.